Attento, idiota! Ho detto qualche colpo di avvertimento, non di abbatterla! Mi dispiace, signore, faccio del mio meglio. Chi l'ha fatto, tiratore scelto? Io, signore. È mio cugino. E quello chi è? Quello è Stronzo, signore. Questo l'ha capito! Come si chiama? Stronzo, signore. È il suo nome, Maggiore Stronzo. È suo cugino? È stronzo anche lui, signore. Tiratore scelto, Philip Stronzo. Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave? Presente! Lo sapevo, sono circondato da stronzi. Continuate a sparare, stronzi!